Emozioni intense all'Arena di Verona in una notte, festeggiando Riccardo Cocciante 50 anni dopo la nascita di Anima. Anche lo dì sul palco per interpretare Esmeralda dall'opera popolare Notre Dame de Paris. Bella Senz'Anima, quante volte l'hai cantata e quante volte l'hai cantata in maniera diversa? Io non conto perché se dovessi contare sarebbe veramente l'infinito, quante volte l'ho cantata, ma ogni volta l'ho cantata diversamente, ogni volta per un pubblico diverso, con un intento diverso, con una rabbia diversa. Bella Senz'Anima Questo brano è stato bocciato in radio e c'era una sola radio. A questo punto c'è stato un giro di promozione e la gente voleva sempre sentire e sentire e alla fine dell'estate ero primo. Ecco, semplicemente questo. Difficile perché io volevo andare via e non cantare più. In fondo pensi sarà un motivo e cerchi tutti i corsi una ragione, non c'è mai una ragione perché un amore deve finire. Ecco, semplicemente questo.